Ma che domanda mi fai? Sono cose private. Io ho lavorato qualsiasi... Ma poi entrano all'intimo, eh? Ma davanti a tutti, voi. Ma io non lo so, stavo mangiando. Non ero da zenti. Minima dopo 40 anni di lavoro cosa vuoi che mi dia? Ho quasi 50 anni. Non avversoriamoci in altre cose che non... ...ti giorni. E quindi ne facciamo 5 invece di 6. E quindi tu non sai... Aspetta, aspetta, aspetta. Ma allora, io l'ho sempre detto, se tu lo faccio in franotolo... ...con una cosa che ci fanno bene. Bene, buonissime. Lo devo fare dal computer, sennò così me lo fa la fotocopia, direttamente. Allora... Come vuoi, tu, come preferisci? Se avete la necessità di... E' un tempo di un matero. Ma anche perché c'era una cosa, cioè, chissà, mi trasporto, non sono soltanto io. Perché... E' un tempo di un tempo di un tempo di un monte che sviluppi... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.